Buonasera a tutti, buonasera, benvenuti qua a Trasdano su Navigo, veramente sono io che sono benvenuto, che non sono mai venuto qua, però a parte questo, grazie di essere qua, siamo un po' meno del previsto, purtroppo ho visto che in questa regione c'ho qualche momento e qualche tonnì, un po' più giardi, non so, comunque speriamo, qualcuno ancora deve arrivare, esatto, vediamo un po' più, allora io vi presento, per chi non mi conosce, ragazzi, io mi chiamo Celi Stigo, sono colui che ha inventato questo format che si chiama Serata dei Singoli in Tour, innanzitutto voglio ringraziare il nostro boss in incognito qua, ciao, come ti chiami? Luca, Luca che ci ha gentilmente invitato e l'ospitato in questo posto, noi eravamo qua in giro, siamo a Red Lucino, per un weekend siamo stati a Varese, dicevano, abbiamo fatto volentieri tappa qua dal nostro Luca per portare il nostro format che gira un po' per l'Italia, da circa 14 anni, noi abbiamo quasi 120.000 persone che ci seguono su Facebook, abbiamo un 30.000 numero di contatti, insomma, facciamo delle serate molto belle, nel weekend ovviamente sono più numerose, tra settimana e domenica un po' meno, cosa faremo noi qua questa sera? Noi siamo qua per mangiare e va bene, siamo già partiti, vedete ci portano, avremo una pericena, mangeremo tutto di più, voi avete un tagliando, questo tagliando che vi è stato dato, potete andare a ordinare un cocktail, tra quelli disponibili, ce ne sono 4 o 5, alcolico, all'alcolico, quello che volete, e quello vi accompagnerà per tutta la serata, acqua ci sarà a volontà, se volete un successivo cocktail, quello sarà pagato, non vuole essere necessario, ok, quindi questo è il quattro, per quello che mi riguarda invece, noi siamo qua per risvegliare emozioni, risvegliare emozioni nei vostri cuori, siamo qua per svegliare le farfalle, le farfalle nello stomaco, avete presente cosa sono le farfalle le farfalle, sono quella sempre teore che si sente a volontà della vita, che passa e viene e alle volte fa sorrire, alle volte fa grigare, bene, noi siamo qua per questo, perché i profioni sono quella cosa che ci contengono giovani tutta la vita, concordi? come diciamo tu? Anna Maria, dove viene Anna Maria? Provincia di Milano, ok, io però sono poi, è qua vicino, è qua, allora ragazzi, come faremo a risvegliare le emozioni? Voi non avete l'obbligo di flertare con la persona che avete o non avete davanti? Voi dovete portare attorno e vedere quelle che vi piacciono, intanto dovete indossare tutti i numeri che vi è stato dato, ok? Vi guardate attorno, quando vedete una persona che vi piace, prendete carta e penna che provate in tavola e scrivete quello che vi esce dal corso, vi firmate con il vostro numero identificativo, chiudete il messaggio, fuori scrivete a chi lo dobbiamo portare, in questo modo voi potete comunicare con tutte le persone che sono in questa sala, in questa maniera discreta e senza svelare i nostri atti sensibili, quindi se non va bene alla sera il numero va riconciliato a noi e il gioco poi ricomincia alla prossima settimana. Quindi molto semplice, molto e discreto soprattutto. Quindi troviamo qualcuno che ho già visto, quel signore lì era venerdì amicevolo, questo signore lì era venerdì amicevolo, qualcun altro c'era con noi a volte. Anche lui era lui era venerdì amicevolo. Esatto, dove è Carletto? Ah, il Carletto, ciao Carletto. E' venerdì amicevolo tu? Paolo. Il Paolo, Paolo. Guarda io, ragazzi, o vi metto un berrettino con il nome, se no io non tiravo. Sempre così eh. C'era anche l'età, non lo so, oppure queste belle donne che mi confondono, non lo so. C'era anche a Luciano, la venerdì amicevolo, esatto, esatto, vedi? E ha giocato in casa. Ha giocato in casa, mi sapevolo. La nostra serata, come sapete, c'è un piccolo difetto però, porta un po' di assuetattore. Quando venite e andate a casa, dopo qualche giorno sentirete il desiderio di ritorno a casa. E' una cosa incredibile. Io sono bombardato di messaggi, di persone che immaginano. Ma quando torni? Ma quando vieni? Ma perché non ci sei? E' veramente, ragazzi. Perché? Perché comunque, se anche non trovate l'uomo della vostra vita la prima sera, che direi che si sta, perché altrimenti io so di essere il lavoro eh. Almeno dieci volte bisogna che veniamo. però, andremo a casa con qualcosa in più, sicuramente. Ok, bene. Allora, grazie. Adesso qualcuno è già iniziato a scrivere. Io mi auguro il buon appetito. Vedete, il nostro uomo ha fatto questa bella insalata. e poi partiamo subito con i primi messaggi, ragazzi, che sono già arrivati. E così vediamo un po' com'è la situazione. Qui siamo abbastanza bilanciati. Bene, bene. Quella è la tua firma. È la tua firma. Oggi, in queste ore qui. Scrivi, ti firmi, chiudi, fuori scrivi a chi dobbiamo contare. Esatto. Allora, cos'è? Tenete le sposti e così poi partiamo. Bene. Qua abbiamo tre persone che devono arrivare. Ecco, abbiamo ritornato. No. Sono dei nostri? No. Ok. Uno che non c'entra in. Qui arrivano. Che arrivano. Tre, quattro. Non so. No, metti per un po'. Se sono belli non lo so. Se no... Intanto è buono che dici, ragazzi. Adesso andiamo qualcosa, eh. Poi facciamo subito il primo messaggio. Sì. Bene, bene. Certo, certo. Ok. Adesso guardiamo un pochino. Oh, c'è l'ambulanza? Qua. Qua. Sta fatta? Qua. Qua tutta. Il po' il pan te ha o il pan te ha ancora. Qua. Quasi quasi poi. una cucchiaiata dai sparo in dovevamo fotografare il piatto però vabbè un po' Grazie a tutti. 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 Buon appetito. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.